Ciao, come state? Ben ritrovati. Proveremo a creare un'applicazione Angular usando Firebase. Firebase è praticamente una soluzione che mette a disposizione Google. Praticamente la suite di Google Firebase ci dà, ad esempio, la possibilità di fare l'autenticazione, il real-time database, il Firestore database, messaging... ci dà tutto l'insieme di servizi per poter creare delle applicazioni serverless. Quindi senza necessità di creare una parte di back-end. Ci sono tante funzionalità sotto Firebase, però col piano gratuito alcune di queste funzionalità anche molto importanti ovviamente non ci sono. Però vedremo la parte, quella free. Che cosa è Firebase? Intanto Firebase deve avere un account Google e praticamente se andiamo qui, questa qui è la console di Firebase e qui ovviamente ti dice di creare un progetto. Peraltro, una delle novità che hanno introdotto insieme con Firebase è Gemini AI con Firebase, quindi la possibilità di creare dei progetti usando l'intelligenza artificiale. Però proviamo intanto a creare il progetto. Quindi diamo un nome al nostro progetto, in questo caso possiamo chiamarlo Twitch Chat, perché alla fine vorrei creare un'app di chat. Accetto i termini qui, se volete andate a vedere tutti i termini di utilizzo, eccetera. Vi consiglio comunque sia di andarlo a vedere. Confermo che utilizzerò Firebase scusamente per scopi relativi al settore, attività maestere, ok. Continua. Qui mi dice se voglio aggiungere Analytics, in questo momento io non lo metto. Faccio Crea Progetto e qui mi creerà il progetto. Cosa posso fare con un progetto Firebase? Firebase lo posso agganciare ad esempio a un'applicazione ad esempio web, a un'app iOS o un'app ad esempio Android. Ok. Faccio Continua. E qui praticamente, vedete, ho praticamente il mio progetto. Ecco quello che vi dicevo, Gemini Firebase. Ok. Quindi posso agganciarci l'intelligenza artificiale, generare additura codice e via dicendo. E vabbè, non è adesso il momento di andarlo a vedere. Qui, come vedete, il mio progetto è stato creato. Abbiamo appunto il Build with Gemini, l'App Hosting, Data Connect. Qui abbiamo diversi servizi. Abbiamo l'App Check, l'App Hosting, un sacco di servizi. Quello che a noi interesserà, che vedremo stasera, sarà l'autenticazione perché inizieremo da questo, inizieremo a creare l'autenticazione nel nostro progetto, diciamo, Angular. Ok. Cosa usiamo per interagire con Firebase? e guardate un po'. Se si cerca Angular Firebase, eccola qua, Angular Fire. Angular Fire è la libreria che si può innestare dentro un progetto Angular per appunto agganciare tutti i servizi Firebase all'interno del progetto Angular. Ok. Quindi molto, molto semplice. Se andiamo a vedere qui dentro, vabbè, intanto iniziamo a creare questo progetto. Ok. Quindi, no, ancora non è pronto. Qui ancora il vecchio Conduit. E NG, NG New è Twitch App. E Twitch Chat. Twitch, magari, no, Twitch Chat, dai. Andiamo a crearlo. Ovviamente mettiamo SCSS. Diciamo di no. Sta installando la nostra... Sta creando per noi il nostro progetto Angular. E la prima cosa che andremo a fare è aggiungere il pacchetto Angular Fire. Che, se non ricordo male, qui, eccolo qua, Quick Start. Dice di creare, appunto, il nostro progetto. E poi... Dov'è? 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 Eccolo qui. NG Add Angular Fire. Facciamo così. Copiamo. Andiamo dentro. Twitch App Chat. Ok. Vediamo... Ce la possiamo fare. Ok. Sì. Sembra essere riuscito. Ok. Come vedete, una volta che installiamo Angular Firebase, ci dice quali sono le features che vogliamo abilitare. Nel nostro caso, in questo momento, abiliteremo l'authentication. Vi dico già che abiteremo anche Firestore. Ok. Poi gli altri servizi non credo che li useremo. Però questa sera vedremo soltanto l'autenticazione. Ok. Andiamo avanti. Adesso installa i vari tools. Se non ricordo male, dovrebbe installare anche Firebase CLI. Che serve per collegarsi e anche per fare il deploy nell'hosting. Non mi ricordo se l'ho selezionato. Vabbè, eventualmente lo inseriscieremo dopo. E questi sono molto... Vedete? Firebase CLI. È molto... Ok. Proviamo a installarli così. Riproviamo a fare le ng-add e vediamo un attimino. Authentication. Ah. Adesso... Adesso ce l'ha fatta. Non so per quale motivo, però... Vabbè. Diciamo che non vogliamo mandare le informazioni. Enter authorization code. E infatti bisogna installarlo a livello globale. Ora, se io faccio... Vabbè, intanto installiamo il Firebase tool a livello globale e vediamo se... Se per caso... Così abbiamo la CLI. Dopodiché mi loggerò e vediamo se... Se così... mi riesco ad entrare Firebase... Adesso dovrei averlo come comando. Perfetto. E facciamo Firebase login. A questo punto... Mi dico di no. Perfetto. Continua. Permetti. E ottimo. Adesso... Facendo così... Praticamente mi sono loggato con la CLI di Firebase all'account Google dove ho creato praticamente il progetto Firebase. E qui mi sono collegato. A questo punto... Se io riprovo a fare l'NG add... L'authentication coder non dovrebbe più chiedermelo. Verifichiamo? Diciamo l'authentication. con questo login qui mettiamo Twitch chat Please select an app e diciamogli What would you like to call your app? Ma perché? Quello è il progetto. Ah! Giusto! Giusto! Non ho creato l'app adesso ho capito. Praticamente una volta che create qui il progetto Firebase ok? Andiamo sulla panoramica qui dobbiamo dirgli qual è la tua app. Quando gli diciamo l'app creerà praticamente un file dove ci sono tutti e quanti i riferimenti per accedere ai servizi di Firebase ok? Qui siccome sono sulla CLI mi sta chiedendo qual è il nome della tua app ok? Quindi qui possiamo chiamarlo anzi facciamo web twitch app andiamo avanti qui adesso sta creando l'applicazione poi andremo a vedere che è creata anche sulla parte web e qui ha creato la configurazione per Angular per accedere ai servizi Firebase quindi praticamente ci siamo prima connessi a Firebase con i Firebase Tools con il CLI di Firebase e dopodiché li abbiamo praticamente loggato e creato un'app siccome dopo voglio pushare il progetto su GitHub ovviamente le chiavi del progetto su Firebase non voglio che siano committate adesso vi faccio vedere se io vado faccio un refresh eccola qua a questo momento c'è un'app io lo clicco eccolo qua web twitch app se clicco la rotellina vedrò tutte l'impostazione di questa app applicata su Firebase ok? collegata al mio progetto Angular in Angular 17 non ci sono gli environment però posso aggiungerli uso il condizionale crearmi gli environments e infatti ora come funzionano gli environments allora lui crea un environment che è questo vedete è una costante e questo sarà quello di sviluppo anzi questo sarà quello di sviluppo e questo qui è quello di produzione allora se vedete ha aggiunto questi due file uno di sviluppo e uno di produzione poi ha modificato l'angular json se andiamo a vedere l'angular json e se andiamo a vedere qui ok e andiamo a verificare ok eccolo qua allora questo qui è production questo qui eccolo qua vedete questi andiamo a vedere bene queste sono le varie configurazioni questo vi può essere utile anche per altre cose allora queste sono le configurazioni potete crearne quante ne volete di default angular mette a disposizione la configurazione di production quindi di produzione e la configurazione di sviluppo se andate a vedere qui nella configurazione di sviluppo intanto l'ottimizzazione false licenza non l'estrae c'è su smap ma questa è la cosa più importante fa un replace quindi cambia il file quando andremo a compilare e dice rimpiazza environment ets con quello di sviluppo quindi fa questo passaggio sulla base se noi compiliamo di sviluppo o andiamo a compilare in produzione metto la mia configurazione sul mio environment io adesso la metto qui ci creo una variabile firebase due punti e ci metto il mio la mia configurazione siccome volevo far vedere però più o meno questo praticamente sono le variabili per configurare per attaccare la nostra applicazione angular ai servizi di firebase ora io qui ho messo aaa apd storage bucket eccetera se avete fatto il passaggio comunque se fate i passaggi ma potete farlo anche manualmente praticamente queste qui le troverete poi tutte queste variabili le trovate qui nell'applicazione se andate qui cliccate sulla rotellina sulla ghiera vi saltano fuori tutte quante le applicazioni ovviamente questo è per un'app web poi volendo potete aggiungere un'app ios un'app android o anche altre app web insomma se avete intenzione di creare più applicazioni web che vanno su questo progetto firebase lo potete fare e ovviamente qui in italyze app qui c'era tutta la configurazione che vi ho fatto vedere non facciamo nient'altro che fare environment e ovviamente non quello di sviluppo perché abbiamo visto che lo rimpiazzava vedete qui dall'intelligence di quello che c'è quindi environment punto firebase adesso lanciamo la nostra applicazione e dovremmo perlomeno il primo pezzo dovremmo averlo fatto quindi apriamo qui non dovrebbe essere cambiato niente perfetto allora la prima cosa che facciamo è cancellare il nostro la nostra schermata e farla pulita abbiamo la nostra applicazione allora noi cosa vogliamo fare vogliamo fare l'autenticazione ora ritorniamo di nuovo qui qui tra le varie funzioni abbiamo l'authentication ovviamente la prima cosa che dobbiamo fare è inizializzare l'autenticazione qui ci sono i vari modelli di accesso cioè posso decidere ad esempio di abilitare soltanto quella con email o password oppure con google oppure facebook via dicendo in questo momento facciamo la prima autenticazione email o password mi chiede di abilitarla l'abilito link via mail accesso senza passo in questo momento lo possiamo lasciare così come vedete è molto semplice se facessi l'upgrade del piano quindi non usassi quello free ma usassi quello a pagamento addirittura potrei fare l'autenticazione a più fattori tramite sms come vedete abilito da qua senza scrivere una riga di codice perfetto a questo punto abbiamo l'autenticazione email e password andiamo a vedere gli altri menu tanto per competenza qui abbiamo la verifica indirizzo email come vedete qui è tutto quanto in inglese però posso scegliere da qui un modello in italiano quindi mettiamo il modello italiano posso anche customizzarlo ma se non ricordo male la customizzazione posso farla qui sì perché posso modificare il modello ma ci sono alcune limitazioni sempre perché siamo nel piano free qui addirittura potremmo mettere un smtp nostro insomma vabbè andate a vedere ci sono un sacco qui c'è una dashboard di repigle di quanti utenti si sono registrati di quanti utenti si sono collegati via dicendo e altre impostazioni se voglio collegare un account con lo stesso indirizzo quindi abbiamo creato il nostro abbiamo inizializzato il servizio di autenticazione e abbiamo abilitato come provider soltanto le mail e password lo vediamo qui una volta che abbiamo fatto questo dobbiamo se non ricordo male qui non ha ancora ah no l'ha fatto eccolo qua come vedete siccome prima quando gli abbiamo detto di installare quando abbiamo detto di installare firebase angular fire scusate e gli abbiamo detto che volevamo abilitare l'autenticazione e lui in automatico ha modificato l'app config mettendoci questo provide out get out ok facendo questo abilitiamo in angular il fatto che da gestiamo l'autenticazione di firebase cioè è come se avessi fatto un import del modulo di autenticazione una volta si faceva l'import adesso con angula 17 si fa il provide out questa è una funzione get out perché c'è una funzione perché in realtà ci sarebbe anche l'emulatore di firebase che si installa in locale quindi quando si è in dev per non ad esempio sforare i limiti di firebase soprattutto del piano gratuito si usa un emulatore locale io in questo momento non ho l'emulatore locale quindi uso direttamente quello online anche perché voglio farvi vedere come funziona e siamo arrivati qui all'autenticazione abbiamo creato il provider se andiamo a vedere la documentazione di angular fire allora qui non so per quale motivo ma la documentazione non è proprio il punto forte di angular fire non so per quale motivo non approfondiscono più di tanto diciamo che è spiegata bisogna un po' cercare le informazioni ora qui se non ricordo male dov'è 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 c'è la parte dell'autenticazione e praticamente ecco qui bisogna fare un inject di out ora vi metto in in guardia perché angular fire in questo momento a che versione siamo vediamo un attimo che cosa abbiamo installato abbiamo installato la versione 17 ok quindi allineata ad angular 17 e andate a vedere soprattutto se andate a cercare la documentazione vedrete che spesso qui quando andranno a fare gli input ci sarà fire barra compat barra out il compat praticamente sarebbe il vecchio modo di gestire Firebase quindi anche il sistema di autenticazione anche Firestore tutto quello che vedete con compat è il vecchio modello quando non trovate compat significa che è stato usando le nuove funzioni perché hanno riscritto soprattutto la parte javascript creando una serie di funzioni proprio per gestire tutto l'ecosistema di Firebase quindi occhio quando andate a cercare proviamo a fare una prova vediamo se quello che vi dico è vero e cerchiamo angular fire how to authenticate ora andiamo a prenderci magari vabbè fatalità mi sta tirando fuori il documento che vi stavo facendo vedere prima proviamo a vedere dai qualcosa di più vabbè proviamo a vedere questo del 2023 molto probabilmente questo mi dirà vabbè qui fa vedere ma forse questo vedete anche lui fa vedere il Firebase Config ma vediamo 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 ecco qua vedete compat non è soltanto che vogliono usare la versione compatibile è che la versione compatibile è diciamo forse forse a più cose c'è molta più documentazione forse per chi ha sviluppato per tanto tempo in angular forse è anche più semplice usare il compat però diciamo che si può usare anche senza modalità compatibile quindi le nuove funzioni bisogna stare un po' attenti e capire come gestire diciamo che dovremo molto basarsi anche sulla decodentazione proprio di Firebase JavaScript ok ma adesso vediamo assieme ok quindi che dice per usare l'autenticazione basta fare l'injector di out e importarlo da qui quindi noi facciamo subito la prima cosa che facciamo ovviamente sarà creare un componente quindi al mio solito creo la cartella creo facciamo pages dai pages andiamo dentro pages e qui facciamo ngc login ok anzi prima dovremo registrarse quindi registration sign up dai sign up e magari diciamo il skip test così non ci creerà i test guarda guarda dove l'ho creato vabbè io faccio l'import come suggerito dalla documentazione e qui che facciamo eccolo qua mi dice di iniettare l'out ok ovviamente andiamo a importare ecco qua e quindi ho l'out come vedete non da compact ma da angular fire out ora qui è già compilato perfetto e che facciamo niente andiamo a crearci il form no allora tanto andiamo a vedere sempre nella documentazione qui si spiegano anche come fare il server side render ok qui creano qui ti fanno vedere altre cose però l'esempio del form di registrazione non c'è e quindi andiamo a creare adesso sul momento andiamo andiamo a crearlo e che facciamo facciamo un reactive form si dai andiamo a importarci il form builder form builder è riuscito a importarlo stavolta a fare viso studio code una volta inizializzato ok facciamo un implement on init e nell'on init andiamo a crearci il nostro form builder sign up e due punti form group mettiamo il punto esclamativo e adesso qui vis.signup anzi possiamo metterlo anche così ah si possiamo metterlo così undefined è uguale a vis.fb punto group ora qui andiamo a definire i nostri campi di registrazione quindi metteremo name vabbè mettiamoci intanto name poi mettiamo stringa vuota e ci mettiamo anche un validators punto required poi facciamo email e lì mi sa che forse non serve vabbè l'abbiamo messo validators required ok e la password la password mi ricordo i campi adesso andiamo a vederli intanto mettiamoci così required non label form builder ok così il sign up ora andiamo a creare un bel form perfetto e up app sign up lo mettiamo così proprio brutto lo andiamo a importare lo andiamo a importare e ovviamente adesso vai in errore perché mi dà appunto il l'errore sul form group ciò c'è la if sign up e facciamo il nostro primo if ok benissimo dopo di che non guardate troppo l'estetica ci facciamo un input text mettiamo for control name ora non mi ricordo vabbè mettiamo name email password uguale a name poi bell'altro input type text name uguale email input e qui form control name uguale password ovviamente non text ma metteremo password quindi abbiamo i nostri campi ovviamente non si capirà facciamo col placeholder nome poi placeholder email e placeholder password anche se quindi adesso se andiamo a vedere perfetto nome email password ah ci manca un pulsante di di submit mettiamocelo subito crea utente questo sarà un type submit e qui e facciamo un bel angi submit no crea utente fix e andiamo a creare il nostro metodo ottimo ora adesso non creo servizi ok lo facciamo tutto quanto qui tanto per avere un po' chiaro cosa come funziona più o meno ora dovrebbe fare anche il controllo di validazione quindi qui facciamo disabled uguale sign up punto invalid ok quindi non sarà valido fin tanto che andiamo a salvare ok e diciamo questo è un void ora dobbiamo usare questo out per andare a registrare l'utente qui ci sono oltre all'out c'è anche diverse altre diciamo funzioni e metodi ok qui tra le varie cose dovrebbe essere proprio qui c'è anche la create user with email and password che ci dà una promise guardate ok l'out è l'istanza del servizio che abbiamo iniettato l'email e la password non serve il nome visto e qui andiamo a prenderci questa funzione è una funzione alla fine vedete è una function a questo punto nella registrazione facciamo create user with email and password qui cosa dobbiamo passargli l'out quindi out l'email e la password this punto adesso lo faccio vabbè non lo faccio proprio elegante ok però value diciamo così post value vale this punto sign up punto value ovviamente me lo dà quel punto di domanda diciamo if this punto sign up era meglio se non lo definivo anche undefined quindi qui vuole il primo parametro abbiamo detto che era l'email quindi value punto email il secondo parametro è la password value punto password questo da una promise da una promise perché ovviamente è una richiesta asincrona visto che è una promise ora quando l'utente si può registrare ma possiamo dire che deve essere verificato solo dopo che ha accettato l'email quindi nel nostro codice qui quando praticamente riceviamo questo credit user with email in password riceviamo qui un result questo result è un user credential e volendo possiamo inviare cioè l'utente si autentica ma possiamo mandare la verifica delle mail cioè non lo facciamo autenticare fin tanto che l'utente non ha confermato che quell'email sia sua per far questo guardate quanto è semplice ci importiamo anche send email verification send email verification ora qui una volta che abbiamo ricevuto quindi è stato creato l'utente facciamo send email verification qui ovviamente che ci dice lo user ok ora qui abbiamo lo user credential se io faccio result punto user qui c'è lo user posso anche questa qui è un'altra promise che però non dà niente posso fare tranquillamente una sync and await ma in realtà non è che devo non ha senso fare una sync and await no perché tanto questo send email non fa intanto che inviare le mail e basta poi non fa altro ok quindi possiamo tranquillamente togliere via la sync e la wait fare send email verification e abbiamo chiuso poi qui ovviamente possiamo fare un catch ok nel catch magari facciamo un console punto error per perfetto molto semplice questa qui è la funzione di creazione di un utente con Firebase andiamo a far la prova dove è dove è eccolo qui vabbè abbiamo scoperto che il nome non era necessario tanto email password ora mi serve un email perfetto ok in questo momento sono questo adesso andiamo a provare a mettere questo indirizzo email mettiamo una password e lanciamo crea anzi prima apriamo il debugger così vediamo cosa succede andiamo magari nel network tanto in console non dovrebbe succedere comunque sia nulla facciamo crea utente ha fatto i suoi giri ok non abbiamo creato API no abbiamo usato tutto quello che era di AngularFire ha fatto i suoi giri e adesso se tutto va bene qui qui teoricamente dovrei ricevere vediamo eccola ho ricevuto le mail vabbè questo è l'annuncio della ma guardate verifica il tuo indirizzo email per twitch chat 28 di 16 se adesso clicco questo link praticamente mi verificherà anche le mail ma se andiamo a vedere su Firebase refresh qui c'ho l'utente creato mi dice il provider che è con le mail quando è stato creato quando è stato l'ultimo accesso eseguito il suo identificativo e dovrebbe no qui non c'è poi lo vedremo da un'altra parte mi può dire se l'utente ha o meno verificato il suo indirizzo email ora per il momento non lo clicco così non lo verifichiamo perché il primo passaggio l'abbiamo fatto ora andiamo a fare anche il login e il logout manca la parte di login non logato intanto avete visto la registrazione pochi semplici passi e l'abbiamo fatta l'utente è registrato vi dirò di più se andiamo a vedere qui l'utente è anche loggato ci sono tutte le sue informazioni e dovrebbe essere anche loggato ma adesso andiamo a vedere come si fa per andare a verificare questa cosa allora ritorniamo nella documentazione come vedete qui ci dice ci sono diversi osservable ok qui ad esempio c'è questo che è sempre un'altra funzione di angular fire come vedete non c'è compat sono tutte funzioni quindi non ci sono classi, servizi eccetera ci sono tutte funzioni andiamo a prenderci questa più che altro forse è molto più importante questa subscribe quindi andiamo a copiarcelo andiamo a portarlo dentro il nostro codice lo portiamo sempre nel g on init adesso sto facendo un po' un purpuri di codice ok qui adesso lo user non c'è vediamo se riesce a importarlo se ce la fa ovviamente dobbiamo crearlo dopo l'out ok cannot find out è certo dobbiamo dettergli this.out ok quindi ci riferiamo sempre il servizio di out qui abbiamo un observable andiamo qui andiamo qui e ci facciamo user dollar pipe async ovviamente la async non ce l'abbiamo quindi lo andiamo a importare async pipe ok qui salviamo qui salviamo e andiamo a vedere la nostra feature chat ok mi sono dimenticato il json pardon facciamo così json già che ci siamo mettiamolo in pre così lo vediamo anche un po' più ordinato ovviamente va in errore ok oltre alla sync pipe mettiamo il json pipe ok andiamo a vedere come vedete nonostante io non abbia fatto niente eh sono ancora logato sono ancora logato hm come vedete email verified è false hm carino no non ho fatto granché di codice firebase mi permette di fare tutto questo a gratis cioè non ho pagato per avere servizio autenticazione ok come vedete ho tutte quante eh informazioni facciamo la logout a questo punto così ci sloghiamo mettiamo un altro pulsante non sto facendo proprio delle belle interfacce eh logout ok clic logout andiamo a definire la funzione ok come si fa a farla logout andiamo qui e se non ricordo male qui deve essere la funzione di sign out quindi stavamo facendo il logout come abbiamo visto dalla documentazione c'era il sign out il sign out l'abbiamo già importato qui e quindi cosa faccio sign out qui cos'è che vuole come parametro sempre l'out il spunto out se non ricordo male questo qui è un napromise punto ven console punto log sent logato se adesso io faccio logout ecco c'è sloccato quindi andiamo a fare sign in e ormai l'avrete capito la funzione di sign in è qui dentro e qui facciamo sign in with email and password eccolo qui quindi facciamo un altro form group sign in form group by vis.signin uguale vis.fb group in questo caso ho bisogno soltanto delle mail delle mail required e poi della password virgola validators punto required ok andiamo crearci il nostro form magari lo creiamo un po' più sopra anzi facciamo la capa di tutto ok questo non è sign up ma è sign in questo non serve questo è sign in non mi dà l'errore email e password questo è sign in e facciamo accedi sign in andiamo creare la funzione eccolo qua che cosa ho scritto sign in vabbè andiamo qua sotto la aggiungiamo sign in e ovviamente facciamo andiamo a copiarci di nuovo questa cosa qui ovviamente la customizziamo sign in quindi qui è sign in questo ovviamente ce lo togliamo e qui abbiamo sign in with email e password qui vuole sempre l'out l'email quindi value.email e la password value.password punto pen qui abbiamo result perché questo qui ci dà lo user credential come quando facevamo il create user email e password in questo caso io non farei niente ma se andiamo a provare adesso andiamo a vedere ecco qui perché non c'ho più l'email di prima eccola qua e questa qui lo copiamo qui ci mettiamo l'email qui la password adesso facciamo accedi e sono logato ma vogliamo provare ad aggiungerci allora facciamo quello più semplice non li facciamo tutti perché sennò bisognerebbe andare su facebook eccetera ma qui possiamo aggiungerci l'autenticazione con google allora per abilitare accedi con google cloud app android devi fornire impronta vabbè vabbè perfetto qui mette questo configuriamo l'email di assistenza che è il mio qui non ci aggiungiamo nient'altro qui la configurazione sdk ma non ci importa e facciamo salva ok quindi abbiamo mobilitato anche il provider di google ora per fare l'autenticazione con google quindi con il provider google dobbiamo dirglielo quindi faremo un altro pulsante intanto facciamo log out ok così non siamo logati e dobbiamo fare un altro pulsante lo so è proprio brutta è proprio brutta ok facciamo un altro pulsante qua sotto quindi button fammi indovinare c'è una funzione che fa partire dal login di google bravissimo nuovo per spiccaccia bravo esatto adesso la facciamo ho login qui google dai è simpatico però dai sono due quante funzioni questo è come è diventato semplice il mestiere dello sviluppatore poi il problema è quando non funziona e quando non funziona lì inizia a esserci qualche problema ok ok si magari si mette anche in due punti invece di un punto e virgola ok facciamo anche una formatazione del documento tanto per avere una parvenza del fatto che sia ordinato ora in realtà non è proprio una funzione prima bisogna avere il provider di google allora intanto bisogna avere il provider quindi provider google è uguale new out punto dobbiamo fare prima l'import questa volta vedi vedete non lo facciamo su angular fire ma lo facciamo direttamente su firebase out quindi andiamo direttamente sulle librerie di firebase non mi sembra che ci sia ma proviamo a verificare sign in non c'è non l'hanno non l'hanno fatto ok vediamo with pop up ah ci sarebbe si questo qui probabilmente useremo questo per fare l'autenticazione con google allora intanto dobbiamo portarsi questo qui bisogna prendersi il provider ok quindi qui è il provider di google che è già praticamente configurato per andarsi a prendere l'autenticazione di google ok nel provider nel provider google qui dobbiamo aggiungerci gli scope gli scope prova a scrivere google sull'import vediamo vediamo proviamo a scrivere google e c'è soltanto il provider ah peraltro c'era google out provider quindi in realtà proviamo a farlo così google out provider vediamo vediamo in realtà google out provider provider google vediamo un attimo google out provider vediamo se no questo è una classe provider google punto c'è c'è l'add scope provider di set default language possiamo anche settare il linguaggio ma qui gli scope sono che cosa ci add and out scope esatto sono ad esempio cosa mi può servire dell'autenticazione di google su email ok mi sembra che come scope oltre email c'era anche vediamo se ci dà l'intelligence chissà di no bisogna andare a vedere la documentazione di google quali sono gli scope messi perché non c'è mi sembra che ci sia anche display name nome cognome però tanto a noi per il momento ci interessa le mail ok quindi all scope email e sarebbe quello che ci aspettiamo di 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 risposta no perché se no ci avremo soltanto un token non avremo altro ok ora con questo provider noi useremo il sign in with pop up eccolo qua il sign in with pop up ovviamente gli serve l'out e il provider quindi provider google ovviamente questa è una promise eh sì è una promise dove abbiamo sempre il nostro result e nel result è sempre lo user credential quindi basta tanto far questo salviamo salviamo e andiamo a verificare cosa succede ui che brutto mamma mia no non ce la faccio non ce la faccio dai usiamo i vecchi br e li mandiamo a capo ok ora se tutto abbiamo fatto bene guardate clicco mi appare la finestra con l'autenticazione pigio il mio account mi dice guarda continuando google condividerà il tuo nome l'indirizzo email la tua preferenza di lingua e via dicendo anche la foto se avessi messo qui la foto faccio continua a questo punto sono loggato con google ovviamente l'email è verificata il mio nome non sono anonimo l'url della foto i vari provider e via dicendo se faccio logout sono slogato se andiamo a rivedere il provider andiamo a vedere gli utenti questo è l'utente logato con google questo invece è l'utente logato con le mail però cavolo io ho fatto la login con google e volendo posso fare anche altri altri login con facebook tramite il telefono mi sa che il telefono però è super veloce eh si il telefono mi sa che forse bisogna fare l'aggiornamento del piano posso fare anche una login tipo anonimo con twitter con yahoo ovviamente ognuno di questi ha diciamo delle abilitazioni perché google è già abilitato nel suo ecosistema no? Firebase ovviamente di google quindi è già autenticato se voglio andare ad esempio fare un'identificazione con microsoft dovrò fare dei passaggi su microsoft per dire di trastare questa applicazione Firebase comunque c'è tutto documentato e poi posso usare il provider di microsoft stesso di casi per facebook apple github e via dicendo di microsoft e via dicendo di microsoft